festa dell'immacolata dogma dell'immacolata concezione secondo il quale la vergine maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento oggi celebrazioni in tutta la calabria festa dell'immacolata parola agli esperti dal punto di vista di un laico parola alla professor giarmoleo piano e trasporti l'oclida in protesta per via del taglio della fermata della freccia argento a rosario mercatini di natale partono oggi tutta una serie di manifestazioni anche di beneficenza che porteranno a natale modello riace apprezzato in camera grasso esalta la qualità dell'accoglienza del piccolo paesino calabrese completati a bivongi lavoro di restauro interno del monastero di san giovanni terrestis benvenuti al giornale festivo di telemia buon giorno dell'immacolata a tutti ovviamente il nostro giornale oggi incentrato sui temi della festività e proprio con questa partiamo con il vero significato come allo solito apriamo i nostri giornali festivi parlando appunto della celebrazione e delle tradizioni dei riti in calabria oggi 8 dicembre ricorre la festa dell'immacolata concezione una delle feste che anticipa il santo natale e che viene considerata come una vera e propria istituzione con le sue particolarità e tradizioni popolari ma cosa si celebra precisamente festività che avviene fra la seconda e la terza domenica di avvento è riconducibile alla nascita di maria concepita senza peccato originale in quanto ha preservato sin dai primi istanti della sua vita la purezza e la sua immunità dal peccato il dogma della concezione immacolata della vergine maria fu proclamato da pio nono nel 1854 ma le origini della festa dell'8 dicembre sono molto più antiche infatti già nel contra julianum di agostino si legge la chiara obiezione del santo circa l'universalità del peccato originale non assegniamo maria al diavolo per la condizione del nascere perché la stessa condizione del nascere è risolta dalla grazia del rinascere questo affermava sant'agostino gli effetti della grazia di dio nell'assenza in maria del peccato originale erano dunque chiari già nel quarto secolo l'immacolata concezione è un dogma cattolico e la chiesa prima di istituirne la festa l'8 dicembre ha sempre mantenuto un atteggiamento prudente un primo passo concreto fu fatto solo nel quindicesimo secolo quando papa sisto quarto introdusse la festa liturgica dell'immacolata pur non pronunciandosi sul piano dogmatico ma fu clemente undicesimo che rese universale la festa dell'immacolata l'arrivo di tale data simboleggia per molti l'inizio delle festività natalizie e pertanto ci si prepara ad accogliere la venuta del salvatore con addobbi e celebrazioni ricorre infatti in questa giornata la famosa tradizione legata agli addobbi dell'albero di natale e del presepe ogni anno vengono seguiti stili diversi perché anche questo riflette le mode e i costumi della società dagli alberi multicolor a quelli più neutri dai presepi minimal a quelli meccanici come ogni cosa divina celebrata in modo terreno il passo da sacro a profano è sempre breve il vescovo di locri monsignor francesco liva nell'intervista rilasciata a marina di gioiosa ionica definito il dogma dell'immacolata concezione secondo il quale la vergine maria è stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento altri particolari in questa intervista o maria concepita senza peccato siamo davanti all'immagine della madonna nella raffigurazione della madonna immacolata immacolata questa è una qualità della vergine maria cioè senza peccato concepita da dio senza peccato una verità questa della nostra fede che si è affermata lentamente nel tempo pur essendoci sempre nella consapevolezza religiosa della chiesa la vergine senza peccato la piena di grazia così come è stata chiamata dall'angelo maria piena di grazia questa verità di fede è è stata affermata poi recentemente in età moderna da pio nono nel 1850 quando proclamò il dogma della vergine immacolata cioè concepita senza macchia di peccato originale e quattro anni dopo all'urde la vergine comparve a benarrete su birù e dice io sono l'immacolata concezione quasi a voler confermare questa verità della fede cattolica che era stata definita da poco dal papa come noi possiamo vedere se guardiamo questa immagine l'immagine della madonna immacolata presenta questa donna che calpesta il serpente ecco è l'immagine del male che viene sconfitto dalla vergine infatti sin dalla dall'eternità dalle origini quando dopo che dio ha creato il cielo alla terra e l'uomo in adamo si è ribellato a lui ha commesso il primo peccato e dio non ha voluto abbandonare il suo destino l'umanità ma ha voluto promettere un percorso di salvezza e già da allora e dio ha lasciato intravedere l'immagine di questa donna che avrebbe schiacciato la testa al serpente e maria quindi è stata con lei che ha detto sì a questo progetto di salvezza di dio accettando di essere la madre del suo figlio la madre la madre di gesù colui cioè che attraverso la sua vita la sua morte in groce ci ha salvati sconfiggendo le conseguenze del peccato originale ecco maria non ha risentito del peccato originale è la tutta santa ecco lei che ha detto un sì pieno a dio è stata concepita sin dall'origine senza peccato ma poi tutta la sua vita è stata una vita pura senza peccato per cui lei diventa allora il modello del cristiano la tutta santa la beata fra tutte le donne la piena di grazia da parte del signore maria quindi rimane per noi questa immagine noi celebreremo la festa solennità dell'immacolata congezione proprio per guardare con lei che la madre di cristo madre di dio e che la nostra madre ma anche il modello della nostra vita di cristiani la tutta santa ecco concepita dal signore in tutta la sua bellezza dio non poteva pensare ad una donna più perfetta come madre del suo figlio e maria rappresenta proprio la donna perfetta che mette al mondo il figlio di dio quindi madre di dio e madre nostra racconto storico del dogma di maria immacolata da parte di un religioso per eccellenza monsignor francesco oliva adesso passiamo però all'altro punto di vista è quella il punto di vista laico con un docente in filosofia la parola adesso che passa al professor germoleo parlare della festa dell'immacolata concezione e parlare di un di una realtà una realtà importante nella vita dei cristiani ma direi non solo nella vita dei cristiani i processi di laicizzazione che hanno interessato la nostra società negli ultimi decenni magari hanno messo un po in ombra la festa e anche il significato stesso della festa che invece in passato aveva un impatto sociale anche importante era importante ed è importante perché l'immacolata concezione quello che noi ricordiamo con questo titolo della figura di maria è qualcosa di importante non solo nel dal punto di vista strettamente diciamo teologico quello che è la questione religiosa e quindi nell'economia della salvezza ma anche perché ha qualcosa da dire agli uomini come tutti i fatti cruciali della nostra salvezza ha qualcosa da dire al singolo qualcosa da dire alla società pensando oggi per come la realtà contemporanea se io penso a questa festa e a tutto il significato che c'è viene subito da pensare ad una vita donata ecco l'immacolata concezione si inquadra in una vita che appunto viene donata per un fine più alto è quello che è la scelta che ha fatto santa maria ma è la scelta a cui sono chiamati tutti i cristiani si collega all'immacolata concezione anche la stessa idea di purezza che non è una virtù del passato ma è un qualcosa che appartiene e ha un valore un grande valore ancora oggi e ci rimanda fondamentalmente a un concetto che non ci apparteniamo da una parte e che neanche gli altri sono oggetti nelle nostre mani io credo che nella nostra società questo nella nostra società contemporanea questo ha un grande valore ricordare che gli altri non sono mai oggetto ma sono sempre fini e che le nostre vite hanno un valore che non è solo umano ma è soprattutto soprannaturale e in quest'ottica noi guardiamo la nostra vita il nostro corpo la vita e il corpo degli altri poi per noi gente del sud l'immacolata concezione aveva anche un valore tra virgolette politico nel senso più alto la immacolata concezione era la padrona del regno delle due sicilie e come anche se questo certamente è una realtà del passato però come molte cose rimangono nel ricordo della gente in quella che è un po' la nostra il nostro spirito il nostro modo anche di credere di rapportarci forse vale anche la pena ricordarlo avere questa figura così eccelsa di un essere umano ma sicuramente con delle caratteristiche particolari e con una vita sicuramente unica averlo come punto di riferimento non solo per la vita del singolo ma anche per la vita della società io credo che questo avesse in una società certamente diversa un grande valore ma in qualche maniera anche un valore cercare di riscoprire oggi il significato vero di questa festa oggi giorno dell'immacolata partono gli eventi natalizi che poi insomma si entrerà nel pieno poi a ridosso della della festività natalizia vi renderemo conto di quello che accadrà di bello e di tradizionale in calabria ma già cominciamo da quello che compendia oggi giorno dell'immacolata 8 di dicembre con soprattutto mercatini di natale in tutta la calabria quasi in tutta la calabria seguiamo Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Swing and Jingle Bell Swing Snowing and blowing, our brushes are fun, now the jingle hop has begun Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell Swing and Jingle Bell Time Dancing and Dancing in Jingle Bell Square Quando si parla di ponte dell'immacolata su cosa fare e dove andare si pensa subito ai mercatini di Natale grazie a casette di legno, addobbi natalizi, luci, alberi di Natale, regali e presepi entrare nell'atmosfera magica del Natale è facilissimo e basta sfruttare i quattro giorni di ponte che l'immacolata offre in questo 2016 Il ponte dell'8 dicembre è certamente il momento in cui ufficialmente inizia il periodo natalizio e il conto alla rovescia verso il 25 dicembre questo anno in Calabria gli eventi natalizi cui far riferimento sono diversi fino al 23 dicembre a Cosenza ma anche Tropea ospiteranno i tradizionali mercatini di Natale i mercatini saranno ospitati con dei speciali stand anche nei paesi della Piana di Gioia Tauro che si preparano così all'arrivo del Natale stessa sorte sulla fascia ionica a Siderno e in piazza Portosalvo sono attivi già dal 6 dicembre i mercatini pieni di addobbi, luci e cibo che continueranno fino al 6 di gennaio a Reggio Calabria in particolare l'evento Natale a Reggio presenterà il weekend dello shopping per i due weekend la via Miraia diventerà via dell'artigianato con l'esposizione di artigianato artistico e invece per i più piccoli ci sarà l'ufficio postale di Babbo Natale in collaborazione con poste italiane sarà presente anche un mercatino enogastronomico di Natale un'iniziativa itinerante organizzata dalla Regione Calabria che vedrà anche la degustazione dei prodotti locali con animazione e giochi così dall'8 fino al 23 dicembre Piazza Castello diventerà il villaggio di Natale ancora un'altra certificazione di qualità arriva dal dottor Grasso per quanto riguarda il modello riage cioè il modello voluto dal sindaco Lucano in tema di accoglienza la proiezione di un paese di Calabria il docufilm di Shuaiello e Caterin Catella ha dato al presidente del senato Pietro Grasso l'occasione per definire Riace comune di cui il documentario parla un gioiello d'Italia vorrei partire da una considerazione che ancora in troppi si rifiutano di fare propria dice Grasso le nostre città, le nostre famiglie le classi dei nostri figli e nipoti sono destinate a colorarsi di altre realtà a generarne di nuovi a fare conti con tradizioni profondamente differenti lo ha capito Domenico Lucano sottolinea che dal primo arrivo di richiedenti asilo curdi nel lontano 98 ha costruito le basi di un progetto oggi studiato e ammirato in tutto il mondo insomma il sindaco di Riace è stato un esempio di come occorrano uomini capaci di sognare in grande e in grado di coinvolgere altre persone giorno dopo giorno con lui i suoi concittadini hanno colto una grande occasione facendo rinascere sia sotto il profilo economico che sotto quello sociale e culturale una comunità destinata altrimenti a spegnersi lentamente fino a pochi anni fa infatti ricorda il presidente del senato questo piccolo comune contava 900 abitanti oggi ne ha 2100 poco prima di dare il via alla proiezione Grasso ha voluto sottolineare due scene che lo hanno particolarmente colpito la prima vede una classe di una decina di studenti tutti non nati in Italia ognuno ha una storia un passato e delle tradizioni spiega Grasso ma si sentono già un po' italiani impareranno ad amare la nostra cultura e l'arricchiranno con la propria perché è a scuola che più di ogni altro luogo si creano le condizioni migliori per poter realizzare un'integrazione di successo la seconda scena è quella di un ragazzo che racconta la sua tragica attraversata nel Mediterraneo per tutta la durata del racconto l'inquadratura induggia sull'uomo che ricorda l'incredibile dramma che ha vissuto Un paese di Calabria conclude quindi Grasso è un bel film che descrive con tocco gentile ma profondamente diretto uno spaccato di paese che dobbiamo guardare con orgoglio Riace, così come Lampedusa rappresenta l'Italia capace di dare piena attuazione alle proprie leggi di tener fede ai nostri principi morali e di interpretare con coraggio e ambizione le grandi sfide che tutti saremo chiamati ad affrontare Si polemizza circa la mancata fermata in provincia di Reggio Calabria di Freccio Argento che sì, sarà 4 ore e più per raggiungere Roma però non toccherà importanti stazioni ecco la Logite per esempio è tagliata fuori perché non ha Rosarno Il treno Freccio Argento 9372-9379 non si fermerà più nella stazione di Rosarno Questa è la causa della protesta dei sindaci della Piana di Gioia Tauro i consiglieri metropolitani e regionali che si sono riuniti in un tavolo tecnico per discutere del caso In pratica Trenitalia ha annunciato che dal 10 dicembre il collegamento Reggio Calabria-Roma che sarà effettuato in poco meno di 5 ore non farà tappa alla stazione di Rosarno quindi il treno permetterà solo a una parte dei cittadini calabresi di usufruire di un servizio più rapido verso la capitale ma non a molti A protestare sono soprattutto i sindaci della Locride e il primo cittadino di Rosarno la cui stazione è diventata punto di riferimento non solo per la Piana di Gioia Tauro ma anche per chi vive dall'altra parte della costa calabrese Al tavolo tecnico sono stati presenti i sindaci di Galatro, Anoia, Melicucco, Candidoni e i consiglieri di Rosarno Palmi, Cinque Frondi e Melicucca che si sono fatti portavoce di una petizione che chiede a gran voce al ministro dei trasporti e al presidente Oliverio di intervenire sulla direzione di Frecciargento Trenitalia per istituire la fermata nella stazione di Rosarno che andrebbe ad intercettare un'utenza di circa 200.000 persone e confortata dal fatto che nella tratta Villa San Giovanni La Mezzia il treno 9372 Frecciargento ha dei recuperi e quindi riesce a raggiungere La Mezzia con 7-10 minuti di anticipo sull'orario Il sindaco Giuseppe Ida ha affermato come si tratti di una scelta illogica e lesiva di quelli che sono i diritti di una vastissima popolazione che supera i 200.000 abitanti e penalizzante soprattutto per i cittadini dell'area ionica Ingenti danni all'ericoltura portati dai cinghiali la regione interviene un'iniziativa dopo devastazioni a Maierato e in tutto il Vibonese in particolare Uno dei problemi che affligge i comuni montani e non solo è legato alla devastazione che i cinghiali continuano a fare nei campi anche vicino alle abitazioni Tale problematica ha interessato la regione come comunica una nota dell'ufficio stampa della Giunta che ha organizzato un incontro presieduto dal consigliere regionale Mauro Dacri delegato per i problemi dell'agricoltura All'incontro ha preso parte anche il dirigente regionale del settore Cosimo Caridi e alcuni sindaci che hanno sottolineato le difficoltà che si trovano ad affrontare gli agricoltori delle località colpite Quella legata ai cinghiali è una difficoltà seria che rischia di diventare pericolosa anche relativamente all'incolumità dei cittadini nel caso in cui dovessero avvicinarsi più del dovuto alle abitazioni Ma siamo sulla buona strada perché man mano guadagnano terreno Gli agricoltori per protestare a tal proposito avevano organizzato uno sciopero per il 12 dicembre ma che sembra esser stato sospeso dopo l'interesse della regione nel prendersi in carico l'impegno e valutare le richieste Le conseguenze sono tangibili devastazioni a cose e colture e qualche sporadico caso di violenza ad animali e persone Ma quali potrebbero essere le misure preventive e quali quelle repressive? Ancora tutto incerto Intanto il Dipartimento Agricoltura ha fatto propria la proposta del Comitato per intervenire sulla legislazione in vigore al fine di disciplinare come merita una materia troppo spesso sottovalutata Parte la ristrutturazione dei gruppi d'azione locale il presidente del GAL Alta L'Oclide spiega ai 10 comuni e ai privati che ne fanno parte la nuova composizione Siamo in una nuova fase con questi GAL perché sembra che il GAL di secondo livello debba sparire Ci sarà la costituzione di nuovi GAL Non succederà nulla di catastrofico diciamo così è solo che la Regione Calabria ha ridisegnato il territorio quindi un'area dove dovrebbe ricadere un GAL ha già deciso quindi questo ci ha spinti a ragionare come è giusto con i comuni e con i privati di tutta questa area Certo, prima noi eravamo i 10 comuni da stilo Bivongi a Roccella e GAL Alta L'Oclide Peraltro questi nuovi parametri dettati dalla Regione prevedono anche un minimo di comuni almeno 16 ma questo era in relazione per la presentazione di un progetto al nuovo PSR appunto almeno in un'area molto più vasta con almeno 100.000 abitanti certo questi parametri il nostro GAL Alta L'Oclide non li aveva siamo molto lontani come ben sapete ora la Regione non consente più di creare questi secondi livelli quindi l'unione di GAL anche perché non permette l'interprovincialità questo certo ci ha spinti e siamo contenti e speriamo che questo nuovo GAL la costituendo che quindi è quello che stiamo facendo ormai da mesi quindi una serie di incontri il sindaco di Siderno il senatore Fuda si è impegnato personalmente convocando queste riunioni che hanno dato vita a questo nuovo progetto si è arrivati a fare una bozza di statuto che è stato dato comunque a tutti i comuni ricadenti in quest'area anche ai privati perché un organismo GAL comunque ha all'interno sia quote pubbliche sia quote private quindi ogni comune che ne vuole fare parte deve doveva e noi l'abbiamo fatto il consiglio fare l'adesione a questo GAL costituendo quindi comprando appunto le quote quindi partecipando e poi quindi si costituirà la fase finale io invito tutti i comuni davvero ricadenti in quest'area a partecipare quindi ad essere attori principali a GAL vedete attraverso il finanziamento del progetto che è stato già presentato altrimenti uscivamo fuori come termini quindi per superare questo ostacolo abbiamo in una riunione deciso due mesi fa di creare un partenariato che è una cosa diversa certo ma questo ci ha consentito ci ha consentito di presentare il progetto che adesso andremo poi ad attuare diciamo poi con la costituzione di questo di questo GAL comune capofila siderno ed è stato necessario per superare quei parametri i tecnici che ci hanno aiutato che hanno creato e fatto questo progetto su una base sentite della delle indicazioni territoriali che è stato molto importante quindi questo è stato un lavoro impegnativo faticoso davvero perché i comuni presentando schede quindi da là si capisce cosa quali sono le esigenze del territorio e credetemi il nostro territorio adesso allargato ad oltre bianco diciamo come comuni ha grandi potenzialità il giorno 13 di dicembre ci sarà una assemblea appunto racchiudendo tutti i comuni che hanno aderito e quindi riformulo l'invito a tutti i comuni fate la delibera di consiglio perché quella è necessaria per andare poi dal notaio e quindi costituire questo gall lo credeo così chiamato c'è già lo statuto poi si andrà ripeto dal notaio e siate fiduciosi perché questo è un organismo necessario per lo sviluppo del nostro territorio ed eccoci all'editoriale di Enzo Romeo di nuovo con 10 righe all'interno del Tg di Telemia un saluto a tutti la sanità in Calabria dà sempre delle notizie un po' contraddittorie perché talvolta si parla di polemiche e quindi per esempio cardiochirurgia a Reggio Calabria inaugurata dal Ministro Lorenzin ancora non è stata aperta ma questo crediamo accadrà di qui a breve le polemiche dei partiti le contrapposizioni tra commissario e governo regionale poi però vengono fuori delle notizie interessanti cioè ci sono anche dei punti di eccellenza e quindi questo sembra alimentare questo particolare sembra alimentare giustamente delle speranze in realtà quando si parla dell'urologia di Reggio Calabria non si può parlare di speranza o di prospettiva ma si deve parlare di certezza perché sotto la regia del primario Pietro Cozzupoli che è un egregio medico un fuoriclasse della sua materia non lo dico io lo dicono i suoi colleghi l'urologia ha raggiunto veramente il reparto di urologia dei riuniti ha raggiunto veramente un livello di alta capacità a Reggio per esempio è partita quella che viene definita l'avveneristica esperienza della chirurgia urologica robotica quindi proprio si è al passo con i tempi già senza l'aiuto dei robot Cozzupoli e la sua equip avevano veramente fatto degli interventi eseguito degli interventi di grandissima complessità e con grandi risultati ora l'aiuto della tecnologia non può che altro non può fare altro che esaltare ulteriormente la capacità di questi medici ed è un fatto positivo che l'urologia di Reggio Calabria abbia seguito proprio il passo dei tempi e quindi della modernità e della innovazione tecnologica già sono stati eseguiti con questa nuova tecnica due interventi per tumori della prostata che è una patologia molto complicata molto fastidiosa al di là dei rischi che ha purtroppo insiti e poi ci sono bisogna dire una serie di interventi cosiddetti facili o di routine che vengono eseguiti con ancora maggiore facilità ma c'è un dato che aiuta molto a far capire la qualità e l'eccellenza dell'urologia di Reggio Calabria è il fatto che siano stati effettuati in un periodo di tempo definito anche da un nuovo report 400 trapianti di rene questa è veramente una notizia importante perché conferma la capacità acquisita dagli specialisti dell'urologia di Reggio Calabria in tanti anni di lavoro volevamo semplicemente sottolineare questa cosa e dire che sarà retorico dirlo ma lo diciamo e lo ribadiamo che anche in Calabria la sanità può essere eccellente grazie per l'attenzione se siete d'accordo ci vediamo domani ci fermiamo per la pubblicità tra poco ciao ho 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 ho